Buonasera, ben trovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max. Aumentano le tariffe dell'acqua per investire sulla riparazione delle condotte e per l'adeguamento dei depuratori. L'Assemblea dei Sindaci del Chietino ha approvato a maggioranza il nuovo piano d'ambito. Protestano i comitati referendari dell'acqua bene comune. La tariffa, dicono, deve essere ridotta del 7% e il WWF denuncia manca la valutazione ambientale strategica e il servizio. L'assi del Chietino, ovvero la nuova Assemblea dei Sindaci del sistema idrico integrato, ha approvato a maggioranza il piano d'ambito, che prevede la revisione tariffaria dell'acqua e il programma di investimenti del Chietino relativo al periodo 2010-2032. Il documento, approvato con il voto favorevole di 41 sindaci sui 56 presenti, darà il via libera alla Regione per l'applicazione della nuova tariffa reale media dell'acqua per l'anno 2011, pari a 1,25 euro al metro cubo. Ai lavori dell'Assemblea, coordinata come prevede la riforma regionale, dal Presidente della provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppe Antonio, ha partecipato anche il commissario dell'autorità d'ambito regionale per Luigi Caputti. La tariffa, spiega l'ente gestore del servizio idrico integrato, serve a finanziare il nuovo piano investimenti per la manutenzione delle reti idriche dei 92 comuni che componevano l'atto Chietino, oltre alla costruzione di nuovi depuratori per i pochi comuni ancora sprovvisti e all'adeguamento dei depuratori di numerosi altri comuni. Il Presidente della Sassi, Domenico Scutti. Il piano d'ambito ci permette di cominciare la costruzione di quei depuratori dove non ci sono e di procedere all'adeguamento e al potenziamento di quegli impianti non idonei. Questo soprattutto per un bene ambientale, perché chiaramente andiamo a migliorare lo scarico delle acque reflue e quindi miglioriamo i fiumi, i mari, eccetera. Quindi questo è fondamentale. L'altro aspetto è la parte delle reti. Noi oggi abbiamo un'enorme dispersione sulle reti idriche perché sono reti fatiscenti, realizzate 50 anni fa, addirittura 100 anni fa e mai seguiti con investimenti adeguati. Quindi partirà dal 2012 un intervento di sostituzione massiva delle reti laddove si creano e ci sono più grossi problemi e quindi con un rinnovamento che ridurrà le perdite e quindi avremo più acqua disponibile. Pur dichiarando di condividere il piano investimenti, un gruppo di sindaci di centro-destra non ha approvato il documento. Sono quelli che negli ultimi anni hanno impugnato i bilanci Sassi perché non contengono gli ammortamenti. Il vice sindaco di Fara San Martino, Antonio Tavani. Non siamo strumentalmente e demagogicamente contrari all'aumento delle tariffe. Evidentemente abbiamo delle tariffe mediamente molto più basse che in altri posti d'Italia e d'Europa e su questo siamo d'accordo. Che però questa operazione venga fatta in maniera retroattiva credo che la legge glielo impedisca e che questo venga fatto per chiudere bilanci in perdita è altrettanto, secondo noi, poco corretto. Contestano l'aumento delle tariffe ai comitati referendari dell'acqua bene comune Augusto De Santis, responsabile acqua del WWF preannuncia ricorso al TAR contro la delibera approvata ma anche, dice, la valutazione ambientale strategica. Tutti i piani devono essere sottoposti a valutazione ambientale strategica a valutazione di incidenza ambientale. Non è una nostra posizione. Chiunque, qualsiasi cittadino e anche i sindaci potrebbero andare in internet e vedere che gli ato del Veneto l'ato dell'Umbria, quando hanno fatto la revisione del piano d'ambito hanno sottoposto quei piani a valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza ambientale. Allora, sono due le possibilità. O hanno sbagliato e quindi hanno fatto procedure illegittime lì o forse qui c'è un problema. E dalle ore 13 di lunedì prossimo alle ore 7 di martedì sarà sospesa l'erogazione dell'acqua in 30 comuni del Frentano fino a Ortona. Il tempo necessario assicura l'ente gestore del servizio idrico integrato per consentire lavori di riparazione alla condotta principale dell'acquedotto del Verde, Casoli Lanciano. E il comune di Lanciano ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi di infanzia, proprio per il pomeriggio di lunedì. Lorena Straccia, la sorella dello studente di Moresco, scomparso a Pescara da tre giorni, lancia un appello. Stiamo facendo il possibile. Abbiamo battuto tutta la costa di Pescara, anche il centro città, affiggendo ovunque volantini con la foto di Roberto, dice la sorella. Siamo in più di 20 dalle marche, tra amici e parenti per cercarlo. Speriamo che sia vivo. Dello studente universitario di lingue, scritto all'adannunzio, ragazzo studioso e bravo, dicono di lui, si sono perse le tracce da mercoledì sera. Roberto Straccia, calciatore della Spes Valdaso, ha indossato pantaloncini rossi e giubbotto per andare a correre. Ha lasciato il telefono cellulare in camera, portando con sé solo le chiavi dell'alloggio che si trova nella zona universitaria di Pescara. Preghiamo chiunque abbia qualche informazione di contattare polizia e carabinieri, dice infine la sorella. Trasporti, treni, taglia, penalizza l'Abruzzo e questa è la denuncia della CGL. Nel capoluogo... ...o sciopero nazionale che ha coinvolto autobus, tram, metro e treni, la protesta è stata proclamata unitariamente da tutti i sindacati di categoria che chiedono il ripristino dei finanziamenti al servizio pubblico locale. In Abruzzo si sono astenuti dal lavoro gli addetti ai servizi extraurbani del trasporto pubblico su gomma e il personale addetto al trasporto ferroviario. In assenza di un reintegro delle risorse tagliate al settore, dichiarano unitariamente i sindacati di categoria, è fondato il rischio di una drastica riduzione del servizio pubblico con gravi conseguenze drammatiche per la mobilità dell'intero paese e per l'occupazione dei dipendenti del settore e dei lavoratori dell'indotto che già in questi giorni scontano pesantemente gli effetti dei tagli ai treni notturni. Nella riorganizzazione del servizio da parte di Trenitalia, dichiara la Filt, hanno avuto la peggio, l'Abruzzo e Pescara. Non solo sono stati eliminati tutti i treni notturni ricadenti sulla cosiddetta linea adriatica, con nessun treno in circolazione dalle 18 alle 5 per spostarsi verso il nord del paese, ma sono stati drasticamente ridotti anche più economici i treni intercity resi per lo più poco allettanti per via degli aumenti dei tempi di percorrenza diventati ormai simili ai treni locali di una volta con la beffa di pagarli con la maggiorazione prevista per gli altrettanto famosi treni rapidi di un tempo. Inoltre c'è stato un sostanziale aumento delle tariffe minime da un giorno all'altro che in alcuni casi supera l'80% e una drastica riduzione delle corse dirette cioè quelle che non necessitano di un cambio. Dura la critica nei confronti degli amministratori regionali e locali le cui reazioni sono state definite davvero poco credibili. Difficile infatti credere sostiene il sindacato che l'assessore regionale dei trasporti Morra non sapesse nulla dei tagli e che a suo dire sono stati applicati da Trenitalia senza interpellare gli organi politici delle regioni interessate. In attesa delle analisi che chiariranno se i materiali accumulati nella darsena commerciale del porto di Pescara sono contaminati da pesticidi e decidere dunque come proseguire il dragaggio il commissario straordinario Guerino Testa si è attivato per fare in modo che gli operatori della pesca vengono indennizzati. Testa ha scritto al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti e ai ministri delle politiche agricole e alle infrastrutture per illustrare la situazione nel porto di Pescara prima e dopo la nomina del commissario e per parlare del rischio imminente di chiusura del porto ha considerato che le condizioni di sicurezza sono molto limitate oltre al rischio di esondazione del fiume Pescara. Testa è in attesa di conoscere nei prossimi giorni l'esito delle nuove analisi dell'arta sui fondali della darsena. L'obiettivo dichiarato del commissario è quello di ottenere al più presto il dissequestro della draga Gino Cucco anche commissionando nuove analisi ad un soggetto pubblico terzo. E a proposito di Pesca il comitato di sorveglianza del programma operativo del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 si è riunito a Vasto l'Abruzzo ha detto l'assessore regionale Febbo non è più regione Cenerentola. Assessore un incontro a Palazzo d'Avalos a Vasto della Commissione Europea della Pesca che cosa è stato deciso? Noi siamo orgogliosi intanto di esserla riuscita a portare in Abruzzo perché è la seconda volta che si fa in una regione la regione Abruzzo è uscita oramai dal ruolo di Cenerentola delle regioni d'Europa non è come la regione che non riusciva a spendere noi anche questa volta anche sulla Pesca stiamo dimostrando di avere capacità di progettualità e di programmazione e soprattutto di spese quindi oggi certifichiamo la uscita dal rischio di disimpegno da parte della regione Abruzzo così come tutto sommato anche se i dati ufficiali sono fermi al 10 novembre molte regioni della convergenza hanno delle problematiche anche se oggi ci stanno dicendo che forse i dati al 31 dicembre saranno nettamente migliori mentre le regioni fuori convergenza tra cui l'Abruzzo al 31 dicembre molto probabilmente potranno aiutare le altre regioni l'Abruzzo è una di quelle che potrà aiutare le altre regioni soprattutto abbiamo dimostrato di saper attenzionare il nostro territorio l'asse 4 che è quello diciamo rivolto per la costituzione dei GAC e gruppi di azione costiera oggi in Italia ne sono solamente 3 il relatore ha dovuto ha sottolineato che l'Abruzzo a questi 3 vanno aggiunti due dell'Abruzzo che finalmente abbiamo costituito abbiamo fatto il bando ci sono le aggiudicazioni e significa saper coniugare la pesca con il territorio con il turismo del territorio io credo che su questo dovremmo investire di più dovremmo soprattutto cercare di evidenziare quelle che sono le tipicità del nostro territorio a mare e fuori dal mare e questo mi sembra si sta facendo Per combattere la crisi secondo il consigliere regionale Franco Caramanico di SEL bisognerebbe istituire il reddito minimo garantito ne parliamo nel prossimo servizio L'istituzione nella regione Abruzzo del reddito sociale minimo garantito per favorire e promuovere l'inclusione sociale dei disoccupati degli inoccupati e dei lavoratori con occupazione precaria è quanto prevede la proposta di legge presentata dal consigliere di sinistra ecologia e libertà Franco Caramanico la legge è prevista dall'Unione Europea ma unici paesi non è stata recepita né dall'Italia né dalla Grecia l'iniziativa ha sottolineato Caramanico vuole essere una misura di contrasto alla povertà ed un aiuto in particolare per i giovani esposti a rischio di marginalità nel mercato del lavoro tra i beneficiari della proposta rientrano anche i precari che hanno un reddito annuo imponibile inferiore agli 8 mila euro la crisi che noi stiamo vivendo certo è una crisi molto drammatica dal punto di vista economico e finanziario ma ha bisogno di una ridistribuzione del reddito proprio per affrontare la crisi proprio per fare in modo che non abbassare i consumi e questo può avvenire solo se c'è una equa ridistribuzione del reddito e se quindi per assicurare la produzione quindi in qualche maniera e significa dare una risposta ai giovani e quindi per dare la possibilità di guardare al futuro in maniera più tranquilla come succede per esempio in Belgi e altre nazioni e dall'altra secondo me anche per affrontare questa crisi nella maniera giusta nella maniera dovuta perché mi sembra un aspetto importante Caramanico ha inoltre annunciato che attraverso questa iniziativa già attiva in molti paesi europei sarà aperto un apposito fondo regionale costituito dalle economie reperite dalle entrate della regione o come accade a livello statale da contributi europei La nuova puntata di Aquilani croniche di una ricostruzione si occuperà questa volta della zona franca urbana Zona franca urbana o dei minimis per l'Aquila? Tanto se ne parla e poco se ne sa In parole semplici la zona franca urbana è concessa a territori caratterizzati da disagio occupazionale sociale ed economico con agevolazioni quinquennali viene incontro alle piccole e medie imprese che hanno massimo 50 occupati 10 milioni di euro di giro d'affari all'anno e 10 milioni di euro di bilancio annuale e che siano soprattutto di nuova costituzione sul territorio La zona franca urbana aquilana dovrebbe essere finanziata con 90 milioni di euro divisi in due tranche di 45 milioni l'una Con l'applicazione del de minimis le agevolazioni sono invece rivolte alle piccole imprese già operanti sul territorio con massimo 50 dipendenti e almeno un terzo degli occupati residenti Le agevolazioni durano un massimo di tre anni con un tetto massimo di 200 mila euro Dovendo scegliere cosa sarebbe meglio per l'Aquila se ne è discusso nella nuova puntata di Aquilani con alcuni protagonisti della trasferta aquilana a Bruxelles di qualche giorno fa aver voluto legare e io lo capisco anche lo ripeto perché altrimenti finiremmo per essere ingenerosi subito dopo il terremoto dell'Aquila c'è stata la propensione psicologica che non è stata solo degli Aquilani ma soprattutto dei soggetti esterni a cominciare dall'Europa di darci tutte quelle che potevano essere considerate astrettamente le misure più facili tampone per una realtà degradata come quella che l'Aquila stava vivendo tanto è vero che la prima indicazione di zona franca era venuta proprio dal commissario europeo dopodiché man mano che noi abbiamo mandato le carte e comunque il tempo passava quindi anche l'appille motivo andava in qualche misura scemando ci siamo trovati sostanzialmente di fronte a delle persone che hanno detto perché dobbiamo distorcere un criterio che per quello che ci riguarda vale per una realtà specifica che può verificarsi a Parigi può verificarsi in Polonia può verificarsi in tutta una serie di realtà oggettivamente più degradate dell'Aquila quando noi in questo momento abbiamo mandato gli indicatori economici gli indicatori economici in questa situazione di degrado dell'Aquila sono di 10-15 volte migliori rispetto a quelle di molte zone della Polonia quindi loro sostenevano se voi potete ottenere lo stesso risultato perché ci avete mandato una fotografia economica congruente col De Minimis perché ci volete chiedere di distorcere dei parametri aprendo una breccia anche per situazioni altre di altri paesi e quindi creando una condizione di difficoltà all'Europa Abbasto i residenti di Via Cardone lamentano disagi per la viabilità e chiedono una nuova segnaletica orizzontale I residenti di Via Cardone Abbastola trafficatissima arteria a due passi dal centro commerciale Leclerc Conad Abbasto chiedono le strisce pedonali per facilitare l'attraversamento ai pedoni le auto dichiarano alcuni cittadini in questo tratto di strada sfrecciano a tutta velocità mettendo in serio pericolo l'incolumità dei passanti oltre alle strisce pedonali sarebbe necessario anche un segnale stradale che imponga agli automobilisti di rispettare i limiti di velocità più volte è stata sollecitata l'amministrazione comunale ma da palazzo di città hanno fatto sapere che non ci sono soldi per poter effettuare questo genere di lavori i residenti hanno anche messo a disposizione denaro e lavoro per poter realizzare le strisce ma anche questa soluzione non è stata accettata disagi anche nella vicina via Palombari dove manca l'illuminazione che dovrebbe arrivare solo quando sarà inaugurata la nuova chiesa di Santa Maria del Sabato Santo nel frattempo si resta al buio e le serpaglie fanno da cornice al campetto di calcio della zona che molto spesso è frequentato da tossicodipendenti La pagina del calcio nell'anticipo del sabato del campionato di eccellenza trasmesso questo pomeriggio da Telemax Casale Incontrata ha perso in casa per 1 a 5 con il Vasto Marina Il Vasto Marina si fa bello in diretta a TV rifilando una sonora cinquina ad un casale troppo brutto per essere vero è tornato a brindare ai tre punti dopo quattro turni di astinenza primo tempo denso di emozioni la partenza sorride rosso-blu appena 40 secondi e sul cross teso da destra di Montanaro nessun compagno di squadra si fa trovare pronto al dodicesimo di Giovanni più attivo tra i suoi si accentra e conclude in bello stile la barba si fa trovare pronto cresce il Vasto al ventiduesimo il lancio illuminante di Capitano Luongo imbecca nuovamente Soria la sua progressione fa male a Carosella ma l'esito non è pari alle attese nel giro di 90 secondi gli ospiti approfittano di altrettante defiance della difesa casalese per infliggere un pesante 1-2 prima Soria pesca i guanti di Pompei proprio sulla linea di porta e un avvertimento perché poi dal cross di Galasso sputore comodamente punisce il casale incontrata per lo 0-1 il vantaggio galvanizza il team vastese palla al centro e arriva l'immediato raddoppio l'ex Franca Villa Galasso buca a destra l'incantata retroguardia di casa e piazza il diagonale dello 0-2 la reazione casalese in questo offendente firmato di Giovanni che termina di poco a lato intanto Calabrese per Bassi nel casale e il primo cambio già al 34esimo pregevole iniziativa personale di Giovanni che salta due avversari al 42esimo e serve un assist d'oro per Vespucci il fantasista di casa spreca così al 43esimo la frittata è completa il traversone apparentemente innocuo di Longo viene battezzato male dall'estremo di casa Soria ringrazia per il regalo prenatalizio e firma il Tris per la sua squadra il decimo centro personale dell'anno all'intervallo è 0-3 nella ripresa punizione per Di Cola al quarto minuto il vento gioca un brutto scherzo alla barba la sfera si stampa sul palo il primo legno per la squadra di casa gli risponde Soria con una sgruppata di 40 metri fianco a fianco con Marini Misterioso il suo spunto viene disinnescato da Pompei altro assist di un eccellente lungo al 55esimo Galasso griffa così lo 0-4 e la sua doppietta di giornata Di Giorgio prova a salvare l'onore per i suoi al quarto d'ora esatto della ripresa ruba palla ad avantaggiato e fa partire un bel tiro che termina la sua corsa vicinissima al secondo palo sputore al tiro un minuto dopo Pompei attento nella ribattuta al 69esimo la rete della bandiera rosso-blu il timbro è di Costantini dopo la traversa di Marini ma passa appena un giro di lancette e di contropiede avviato da sputore e favorisce avvantaggiato Lupo sul secondo palo realizza indisturbato l'1-5 la mezza girata di sputore alla mezz'ora esatta meriterebbe miglior sorte ripartenza poi 5 contro 2 degli ospiti all'ottantaduesimo Soria è troppo egoista li ignora e con l'esterno non trova il sesto sigillo intanto il Casale si fa rivedere con Di Cola a 5 minuti della fine assist per Di Giovanni il tiro finale termina decisamente alto il Vasto fa festa e torna a pizzicare la zona playoff per il Casale una giornata da dimenticare in fretta il TG Max termina qui grazie per l'attenzione e vi ricordo l'appuntamento con la nostra informazione torna domani con il settimanale TG7 arrivederci compagAbsol photo per la nostra informazione